si si buongiorno buongiorno mi dica ma cosa vuole da me io voglio sapere cosa vuole da me e io voglio sapere solo cosa vuole e poi anche registrare che non me ne frega un cazzo va bene lei voglio sapere cosa vuole da me e gli ho spiegato che è successo di una donna che finita in canna ma cosa è successo se c'è le canne fumarie che non sono in norma che cazzo vuoi da me cosa vuoi da me ma chi è che è venuto perché lei non mi ha detto che le canne fumarie non sono in ordine ma che cazzo ne so io cosa c'è nel tuo appartamento ma io ho incaricato lei lei m'ha pregato lei m'ha detto ho capito ho capito ho capito